Ora è tanto grande il sacrificio di aspettare due settimane, due settimane, tre settimane, vediamo quello che succede. Allora, intanto è consentita l'attività motoria individuale, fatevi la passeggiata anche veloce ma con le mascherine. Poi, fra qualche giorno, credo che sarà opportuno individuare delle aree dedicate, alcuni parchi urbani, alcune isole pedonali, dove consentire anche, come dire, la corsa senza mascherina. Ma immaginare di avere oggi gente che va sputacchiando goccioline di saliva quando ci sono bambini che passeggiano o anziani che passeggiano è una cosa intollerabile. Quindi, da oggi in poi, tutti con le mascherine. Chi non indossa la mascherina è una bestia, per due motivi. Perché non ha rispetto per gli anziani e per le famiglie e perché non ha rispetto neanche per un lavoro immane che abbiamo fatto come Regione per mettere in condizione tutti di avere la mascherina. Non ci sono alibi.